The Football Story 2030 presenta una leggenda del calcio, Diego Armando Maradona, nato alla Nussi il 30 ottobre 1960 e scomparso a Tigre il 25 novembre 2020, è stato un calciatore di ruolo centrocampista offensivo, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino. Maradona, era un trequartista mancino, noto per la sua straordinaria visione di gioco, il controllo di palla, la precisione nei passaggi e l'eccezionale dribbling. Nonostante la sua statura inferiore a 170 centimetri, possedeva una struttura fisica compatta e gambe forti, consentendogli di resistere efficacemente alla pressione fisica degli avversari. Maradona, inoltre, era dotato di grande fantasia e intelligenza tattica, era specialista della Rabona e un ottimo finalizzatore e uomo assist. Era anche abile nell'esecuzione di calci piazzati, avendo segnato 62 calci di punizione in carriera, piazzandosi sesto nella classifica di tutti i tempi. Durante il periodo in cui ha giocato in Europa, 1982-1993, ha realizzato 49 rigori su 52 calciati. Oltre alle sue doti tecniche, mostrava un notevole spirito di sacrificio, contribuendo efficacemente anche alla fase difensiva della squadra. Nel 1976, Maradona iniziò la sua carriera da professionista nell'Argentinos Juniors, debuttando ancora a quindicenne il 20 ottobre contro il Talleres, diventando il più giovane di sempre a esordire nella prima divisione argentina. Maradona iniziò a giocare regolarmente, segnando i primi gol il 14 novembre contro il San Lorenzo con una doppietta. Nel 1978, divenne il capocannoniere del campionato argentino con 22 reti. Nel 1979 e 1980, vinse il pallone d'oro sudamericano come miglior giocatore del continente. Nel 1980, segnò uno dei gol più belli della sua carriera contro il Deportivo Pereira il 19 febbraio, un gol che Maradona stesso ha definito il più bello mai realizzato. Nel 1981, dopo una trattativa che includeva quattro giocatori e un conguaglio di due milioni di dollari, Maradona passò al Boca Juniors. Nel debutto ufficiale alla Bombonera, Maradona segnò una ducchetta nella vittoria per 4 a 1 contro il Talleres. Un infortunio lo tenne fuori per quattro giornate, ma al suo ritorno segnò 28 gol in 40 partite, guidando il Boca Juniors alla vittoria del campionato metropolitano di apertura 1981. Nel giugno 1982, per un milione e 200 mila pesete spagnole, Diego Maradona fu ceduto al Barcellona. Nonostante vari infortuni, contribuì alla vittoria del Barca nella Coppa del Re contro il Real Madrid nel 1983 e nella Coppa della Liga. La stagione 1983-1984 cominciò positivamente, tuttavia, a settembre, durante un match di campionato contro l'Atletic Bilbao, subì un grave infortunio alla caviglia sinistra a causa di un fallo di Andoni Goicoecea. Nonostante la frattura tripla, Maradona tornò in campo in soli 106 giorni, nel gennaio del 1984, giocando 16 partite e segnando 11 gol. Nella finale di Coppa del Re contro l'Atletic Club a maggio, persa 1-0, Maradona provocò una rissa con Goicoecea, ma successivamente si dovette scusare con il re di Spagna Juan Carlos. Dopo essersi ristabilito dall'infortunio, Maradona fu ingaggiato dalla Società Italiana del Napoli per 13 miliardi e mezzo di lire. Il 5 luglio 1984 Maradona venne presentato ufficialmente allo Stadio San Paolo e fu accolto da circa 80.000 persone festanti, che pagarono la quota simbolica di 1.000 lire per vederlo. Nella prima stagione il Napoli raggiunse una posizione di centro classifica, mentre l'anno successivo ottenne il terzo posto. Sotto la guida dell'allenatore Ottavio Bianchi, il Napoli vinse il suo primo Scudetto nel campionato 1986-1987 e la sua terza Coppa Italia, vincendo tutte le 13 gare, comprese le due finali disputate contro l'Atalanta. L'accoppiata Scudetto Coppa fu un'impresa che fino a quel momento era riuscita solo al grande Torino e alla Juventus. Nella stagione 1987-1988, Maradona fu capocannoniere con 15 reti. Nel 1989, il Napoli sfiorò la tripletta, arrivando secondo in campionato dietro l'Inter, in finale di Coppa Italia e vincendo la Coppa UEFA contro lo Stoccarda. Nel 1989-1990, sotto la guida di Albertino Bigon, il Napoli riconquistò il campionato e la Supercoppa italiana. L'esperienza italiana di Maradona finì il 17 marzo 1991 dopo un controllo antidoping effettuato al termine della partita di campionato Napoli-Bari, che diede il risponso di positività alla cocaina. Fece il suo debutto in nazionale il 27 febbraio 1977 in un amichevole contro l'Ungheria. Successivamente divenne titolare della nazionale, segnando il suo primo gol in un amichevole contro il resto del mondo nel 1979. Partecipò alla Coppa America 1979, e nello stesso anno vinse il campionato mondiale Under-20 in Giappone, segnando sei gol. Nel campionato mondiale del 1982 in Spagna, Maradona segnò due gol in cinque partite ma fu espulso contro il Brasile. Nel 1986, guidò l'Argentina alla vittoria del Mondiale in Messico, segnando cinque gol e fornendo cinque assist. Durante il memorabile quarto di finale contro l'Inghilterra, segnò due gol iconici, la mano de Dios e il gol del secolo. Maradona continuò a rappresentare l'Argentina nella Coppa America del 1987 e del 1989. Fu il capitano anche nel Mondiale del 1990 in Italia, ma un infortunio compromise le sue prestazioni. L'Argentina arrivò in finale, ma perse contro la Germania Ovest. Dopo una squalifica per doping, Maradona tornò in campo nel 1993, guidando l'Argentina alla vittoria nella Coppa Artemio Franchi contro la Danimarca. Nel Mondiale 1994, Maradona fu espulso per doping all'Efedrina dopo due partite. Maradona sostenne che la positività fosse dovuta a una bevanda energetica, ma fu espulso dal torneo e criticò la FIFA sostenendo di avere un accordo di immunità, che la FIFA negò. Dopo il ritiro, il 28 ottobre 2008, diventa City dell'Argentina, ma viene esonerato dopo la sconfitta ai quarti contro la Germania nel Mondiale 2010. Dopo un periodo di inattività, nel maggio 2011, Maradona diventa allenatore dell'Aluas di Dubai. Nel maggio 2017, Maradona torna in panchina come allenatore del Fuyaira. Successivamente, nel settembre 2018, diventa allenatore dei Dorados. Nel settembre 2019, Maradona assume la guida del gimnasia. A livello individuale, sebbene non poté mai entrare nelle graduatorie del pallone d'oro perché fino al 1994 il premio era riservato ai giocatori europei, nel 2016 la rivista francese France Football, in occasione del sessantesimo anniversario del premio, pubblicò una lista rivisitata dei vincitori nominati prima del 1995 nella quale Maradona viene ritenuto vincitore di due edizioni, 1986-1990. Nel 1996 ricevette inoltre dalla stessa rivista il pallone d'oro alla carriera. Ha comunque ricevuto altri numerosi riconoscimenti individuali, condivise con Pelé il premio ufficiale FIFA come miglior giocatore del ventesimo secolo, e nel 1993 venne insignito del titolo di miglior calciatore argentino di sempre, tributatogli dalla Federazione Calcistica dell'Argentina. Nel 2002 fu inserito nella FIFA World Chap Dream Team, selezione formata dai migliori undici giocatori della storia dei mondiali, ottenendo, tra gli undici della squadra ideale, il maggior numero di voti. Occupa la seconda posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del ventesimo secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la quinta posizione in quella stilata dall'IFS, quest'ultima rivista lo ha posizionato inoltre secondo nella classifica dei migliori calciatori sudamericani del ventesimo secolo mentre la FIFA lo ha invece piazzato alla medesima posizione nella classifica dei migliori numeri dieci della storia del calcio, entrambe le volte dietro al solo Pelé. Nel 2004 venne inserito inoltre proprio da quest'ultimo nella FIFA 100, la lista di 125 migliori calciatori viventi, stilata in occasione del centenario della federazione. Nel 2012 viene premiato come miglior calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards e nel 2014 entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i giocatori stranieri.